Il giorno e la storia. Oggi è il 6 dicembre. 1921, siglato il trattato anglo-irlandese. 1971, la legge 1034 istituisce i TAR. 1990, un jet dell'aeronautica militare precipita a Casalecchio di Reno. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Con la morte di Gian Maria Volontè, scompare uno dei maggiori interpreti della storia del cinema italiano.